è così, è così no, tu però io ci credo non credo niente un po' di più un po' di più lo facciamo contare loro guardate voi perché non avevo dei problemi ce lo guardate voi, per favore 1, 2, 3, 4 4 5 6 6 7 8 8 9 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 19 19 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 22 23 23 24 25 25 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 Grazie.